Un vecchio detto ragazzi dice non accade mai nulla finché qualcosa non accade. Ebbene oggi mi trovo a Santa Caterina di Nardò in provincia di Lecce nel meraviglioso Salento. Ebbene ragazzi oggi vedremo in questo video tante cose interessanti come sopravvivere in macchina. Ragazzi un dissesto politico, una calamità naturale o piuttosto uno sfratto e vi trovate in macchina da soli o con la vostra famigliola a sopravvivere. Ebbene che cosa fare? Oggi vedremo tante cose sotto il profilo sia elettronico che pratico proprio legato al survival. Ebbene vi invito a guardare bene questo video perché ragazzi tutto va bene finché a volte qualcosa nel nostro cammino va male. Ebbene siamo pronti a sopravvivere facendoci aiutare dall'elettronica e ancora una volta dal sole, da tutto ciò che possiamo imparare anche attraverso questo canale in modo da trovarci sempre sempre pronti in caso di calamità. Ebbene ragazzi qui ho già allestito come vedete un letto. Questa è una station wagon, io sono alto 1,82 m e questa lunghezza è 1,85 m. Significa che possiamo dormire con le gambe tese. Ricordate questo primo aspetto, se dormiamo rannicchiati o su una macchina con la testa che ciondola, ebbene perdiamo la qualità della vita. Quindi anche nell'emergenza dobbiamo sempre mantenere il controllo della qualità di vita. Bene ragazzi il tempo di iscrivervi a questo canale, un video un po' particolare e andiamo avanti. Buona visione! Questo video che fa parte di questa playlist, andatela a vedere, è frutto delle enormi richieste che ricevo anche in tal senso. Pensate che c'è un video di questa playlist che ha quasi 500.000 visualizzazioni. Questo significa che la sensibilità sull'eventualità che possiamo trovarci in difficoltà per qualsiasi motivo esiste. E quindi come al solito voglio insegnare anche a voi che cosa vuol dire anche avvalendoci di alcuni strumenti sopravvivere in caso di emergenza. Ovviamente questo va commisurato al posto in cui dobbiamo sopravvivere. Oggi sono al mare, la temperatura è buona, quindi ho allestito un semplice letto con un materassino morbido. Ragazzi vi dico subito che tutti i prodotti che vedrete in questo video sono elencati qua sotto al video nella descrizione e potete ovviamente se vi interessano acquistarli. Dopo vi farò vedere anche qualche dettaglio perché qui ho allestito un materassino che ho acquistato sul web e ragazzi quando dormite su un materassino col vostro lenzuolo e non siete obbligati a essere vestiti e avete un cuscino, quale cuscino ragazzi deve essere uguale al vostro cuscino di casa perché quando appoggiate la testa non potete essere in una posizione che è totalmente scomoda e che invece di diventare un privilegio vi diventa una trappola. Ebbene io ho fatto la copia del mio cuscino di casa. Ragazzi un plaid, insomma qui siamo nella Puglia sempre calda e va bene così ma se invece dobbiamo sopravvivere perché questo non è un video solamente per il sud d'Italia. Se dobbiamo vivere in Valtellina, in Valsassina, in Svizzera, in Germania, tanti amici del canale della Romania o quant'altro che cosa utilizziamo? Ebbene dobbiamo utilizzare anche altre cose e qui vi ho portato questo che è uno scaldasonno, il lana merinos che una volta posizionato sotto il materasso viene riscaldato attraverso il termostato. Questo è il termostato che si connette a che cosa? A uno strumento che conoscete benissimo, un battery bank portatile, ovvero un dispositivo che ha un certo accumulo. Chiaramente non quelli portatili classici per i telefonini ma deve avere all'interno delle batterie litio ferrofosfato che sono sicure. Ebbene con questo termostato abbiamo due posizioni, uno e due, per avere più temperatura. Una volta arrivato alla temperatura si spegne. Ebbene quanto consuma questo scaldasonno, questa coperta termica che andiamo a posizionare sotto al nostro lenzuolo, ebbene questa consuma 20 watt. 20 watt sono veramente pochissimi e riusciamo a gestirlo per tutta la notte, ovviamente non dobbiamo cuocere, quindi quando arriviamo in temperatura si spegne da solo o spegniamo manualmente. In questo modo abbiamo il letto caldo anche se dobbiamo vivere nei paesi nordici o al nord Italia dove sulle Alpi le temperature sono completamente diverse. Ebbene in questo caso il battery bank di cui ho parlato prima è in realtà questo, un dispositivo portatile qualsiasi esso sia, trovate anche di questo il link qua sotto, che possa contenere una certa quantità di corrente per non obbligarci costantemente ad accendere le auto. Come sarà caricato? Sarà caricato esattamente dal pannello fotovoltaico quando siamo in stazionaria, quando siamo praticamente fermi. Ovviamente questi dispositivi da fermo saranno caricati dal pannello fotovoltaico attraverso i cavi specifici che sono questi, che sono sempre di serie su questi dispositivi e poi se invece dobbiamo spostarci allora c'è la presa accendisigaro che connettiamo sempre all'apparecchio e lo carichiamo in maniera ovviamente più rapida. Bene, in entrambi i casi sia in spostamento che in stazionaria andiamo a caricare il nostro dispositivo che alimenterà la nostra coperta termica, che avrà il termostato, che si interromperà, che consuma poco. Ebbene questo è quello che avviene quando siamo in emergenza, mentre dormiamo con nostra moglie o col figliolino in mezzo affinché possiamo insomma vivere questo momento di tristezza che può durare anche tanto ma in totale, totale, quanto più possibile qualità. Andiamo avanti perché adesso descriverò altri oggetti che sono fondamentali e poi mi sposterò da qui per raggiungere un'area marina dove vi farò vedere altre utilità e altri oggetti utili a questo proposito. Buona visione! Ovviamente quando abbiamo finito di produrre la nostra corrente, quando abbiamo dormito, abbiamo preparato il letto, tutto viene posizionato sul lato, fissato, affrancato affinché quando ci spostiamo non ci cada addosso e tutto diventa libero come potete ben vedere. Qui siamo sempre nell'ambito della camera da letto, della ricarica delle batterie, della coperta termica e quindi dopo passiamo in cucina che ci sono tutta una serie di attrezzi. Io voglio farvi vedere quelli che sono ancora oggetti utili quando siete in questa situazione. Ebbene qui non fatevi mancare mai un battery bank, quello di cui parlavo prima, ma la taglia piccola, quella portatile per il telefonino, nonché ragazzi cavi non dimenticatele che sono fondamentali, dopodiché una torcia portatile e questa che invece è una lampada che può essere sistemata in maniera fissa. Quando invece vi fermate avete bisogno di più luce là dove avete sistemato un tavolino e quant'altro, ebbene ci vuole una lampada led di una certa potenza da sistemare là dove deve illuminare una zona. E poi ragazzi per ultimo su questo aspetto non dimenticatevi mai questa. Ok ragazzi, andiamo avanti con altri dettagli. Adesso fate un po' di strada con me sulla litoranea meravigliosa del Salento, lato Ionio, e andiamo direttamente dalla camera da letto in cucina. Buona visione! Ragazzi, quella che vedete alle mie spalle è la macchia mediterranea. Ebbene, là dietro c'è il mare. Che cosa si trova nella macchia mediterranea? Ebbene, siamo passati dal video, dalle immagini precedenti, dalla camera da letto, con tutti gli strumenti azioni elettroniche. Ebbene, qui passiamo in cucina. Nella macchia mediterranea si possono trovare tutte quelle spezie, quelle verdure, quelle insalate, che possono essere utili, certo non essenziali, ma che anche lì danno una certa qualità di vita. Ebbene, adesso io da questa immagine mi sgancio e andrò con la telecamera a cercarle, speriamo di essere fortunato, e a questo punto vi farò vedere queste erbe, queste spezie, queste essenze. Attenzione ragazzi, se non siete esperti, non fatelo perché tra le erbe, tra le spezie e quant'altro si possa trovare nella vegetazione in generale, chiaramente qua siamo nella macchia mediterranea, ma nella valtellina è la stessa cosa, ci sono anche tante piante velenose. Quindi attenzione a quelle che possono sembrarvi delle patate e invece sono velenose, delle cipolle invece sono velenose. Quindi se non siete capaci di riconoscere le piante è una cosa che dovete rigorosamente lasciar perdere. Vediamo che cosa troverò, fondamentalmente qua si può trovare anche della rucola selvatica, che è quella un po' cicciottella rispetto a quella coltivata, che è un po' più smagrita, un po' più sottile. Vediamo del rosmarino, del timo, insomma tutto quello che troverò ve lo farò vedere. Adesso mi assenterò per un paio di orette, un'oretta, due, vediamo cosa trovo e dopodiché passiamo alle immagini. Buona visione! Ragazzi qui dopo pochi minuti mi è andata già subito benissimo perché questo timo, questo cespuglio di timo, vi farei sentire l'odore ragazzi, è veramente eccezionale. E questo ne piglierò qualche rametto. Ecco qua ragazzi ci ho messo un po' ma anche questa salvia ve la faccio vedere. È bella, vi ricordo sempre ragazzi quando raccogliete le spezie prendete alcune foglie, non quelle basse, che vedete come cicciotta questa selvatica, prendete le foglie ma lasciate sempre la pianta, non estirpatela, non rovinate quello che è il biotopo che si va a creare progressivamente. Ragazzi mentre mi spostavo dalla macchia ho trovato questo muretto a secco di qualche contadino dove è pieno di rosmarino e quindi per quanto riguarda il rosmarino direi che siamo ampiamente a posto. E poi c'è questa pianta di alloro eccezionale, prenderò anche qualche foglia di alloro ragazzi. Ragazzi è stata una bella avventura in mezzo a questa macchia, ho trovato diverse cosettine che vi ho fatto vedere e adesso proseguiamo questo viaggio e andiamo a cucinare, vediamo che cosa succede in questo tour che sto facendo, molto molto simpatico, bello, piacevole, in mezzo alla natura. Ragazzi mi sono circondato in questa macchia di questi bellissimi fiori e ragazzi natura vince, andiamo avanti. Ragazzi sto scendendo in questo laghetto salmastro per filmare ragazzi questi finicotteri, li vedete qua bellissimi, spettacolo eccezionale. Mi sto avvicinando ai finicotteri, eccoli lì ragazzi, ci tenevo a fare questa videata. Adesso vi farò vedere come accendere un fuoco in una maniera molto semplice e molto rapida. Io mi sono posizionato qui in mezzo alle rocce di questo mare incantevole e vi ricordo che il fuoco è pericoloso per la natura perché si bruciano e si devastano in terre terre. Ecco perché prima di accendere un fuoco, se state utilizzando questo video per il camping, dovete sempre verificare che ci sia l'autorizzazione ad accendere un fuoco. Ebbene in caso di emergenza ovviamente è diverso, quindi questo video è culturale. Che cosa ci serve fondamentalmente? Intanto due attrezzi fondamentali che sono un'ascia, questa è la mia che mi segue da anni, sempre affilata, sempre protetta e poi questo è il mio coltello, il mio coltello con fodero in cuoio, con annessa anche la pietra per molare, affilare e la lama è molto buona. Un coltello anche seghettato in modo che si possa anche tagliare qualche ramo. Ebbene questi due attrezzi ragazzi mi raccomando è vietato portarle in auto se non c'è uno scopo specifico, quindi bisogna lasciarli sempre protetti all'interno dello zaino e perché stiamo andando a fare campeggio, c'è una condizione di utilità dimostrabile alle autorità che dovessero chiederne conto, quindi fermarci. Quindi mi raccomando non lasciate questi attrezzi pericolosi sul sedile, nel cofano sfusi perché potreste avere dei problemi. Detto questo adesso accendiamo in maniera rapida il fuoco, vi faccio vedere come si fa con uno strumento che molti di voi conoscono sicuramente, si chiama acciarino. Ebbene per accedere il fuoco si parlava di acciarino, qui ne ho due tipologie, una molto comune, l'altra è un po' più difficile da trovare, adesso vi metterò il link di quello che acquistai molto tempo fa e vediamo se ancora c'è. Allora questo ve lo faccio vedere, questo è piccolo e l'ho costruito io, cioè ho comprato queste barre di ferrocerio e sono barre che praticamente sviluppano, strofinandole sviluppano temperature, scintille con temperature di circa 2000-2200 gradi, vengono chiamate anche acciarini al magnesio. Ebbene questa ve la faccio vedere, molto carina dove io l'ho tutta modificata con un pezzo di legno di olivo rifinito, ribattuto, questa è molto carina. Questa invece è molto più grossa, vedete, molto più efficace, è sempre una barra col suo cordino dove c'è appunto questa lama che serve alla scintillazione. Ebbene qui come funziona? Dovete strofinare e le scintille che fuoriescono sono rapide e potentissime, queste servono proprio per accendere rapidamente il fuoco. Adesso avvicinerò la telecamera qui e vi faccio vedere che cosa, quali sono i supporti che dovete utilizzare, ovviamente tutti completamente asciutti. La cosa bella dell'acciarino è che funziona anche in situazioni di umidità, lui produce sempre queste scintille ad altissima temperatura. Ovviamente le scintille sono durature, nel senso che là dove vengono proiettate si consumano in qualche decimo di secondo, non sono istantanee, quindi producono veramente un effetto ideale per accendere un fuoco. Avviciniamo la telecamera. Quello che ovviamente dovete trovare ragazzi sono erba secca di questa tipologia, piuttosto che piccoli rametti secchi di cespugli. Ebbene andate a posizionare sempre i più sottili, più secchi sotto, poi mettete questi altri sopra. Dopodiché io ho preso questi pezzi di legno grosso che potete già mettere nelle vicinanze ed è una cosa molto semplice. Il vero lavoro lo fa appunto l'acciarino. Vi posizionate vicino all'erba secca e dovete semplicemente strofinare nella direzione della stessa. In questo modo ragazzi, l'avete visto, il fuoco è già partito, cioè rapidamente con 4-5 scintillazioni abbiamo l'effetto desiderato. Dopodiché andiamo a riempire, man mano che il fuoco prende potere, con la legna più grossa. È stato molto rapido, si è acceso rapidamente. Adesso lo spegnerò per non lasciare nessuna traccia di sporco qui sul posto. È sempre bello lasciare le spiagge, o le rocce in questo caso, pulite. E avete visto come accendere un fuoco in maniera veramente rapida. Ragazzi, ovviamente il viaggio in Puglia è stato fantastico e vi incoraggio ad andare in questa regione bellissima, come tante altre regioni d'Italia, per imparare proprio il survival. Un'esperienza che sia camping o che sia come ho fatto io in auto, è veramente stimolante. Ragazzi, Puglia bellissima. Adesso vi lascio con le immagini che ho girato di un pezzo di territorio della Puglia perché c'è veramente tanto da vedere. Intanto io mi procuro la cena per questa sera, pesce al cartoccio e vediamo come va a finire. Ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.